Ciao Filippo, sono Martina da Como, volevo ringraziarti con questo tuo pezzo, grazie di ogni emozione che ci regali con i tuoi pezzi, e volevo dirti che non vedo l'ora di vederti all'arena, per me è la prima volta in assoluto vederti là, sarà sicuramente uno spettacolo indimenticabile come tutti quelli a cui sono stata, e niente che dire, un bacione, ti voglio bene, ciao!